Ciao ragazzi, in questo video vi propongo una sorta di mini lezione barra esercizio in cui calcoliamo il campo elettrico prodotto da un piano uniformemente carico e qui ho sottolineato che nel calcolo che faremo noi considereremo un piano ideale, cioè un piano illimitato che si estende infinitamente. Cosa significa questa cosa? Abbiamo calcolato il campo di alcune distribuzioni di carica, per esempio abbiamo calcolato il campo prodotto da un guscio sferico, abbiamo calcolato il campo prodotto invece da una sfera in cui la carica sia distribuita su tutto il volume della sfera. Un'altra situazione importante, un altro esempio importante è appunto quello di una carica che si è distribuita su un piano, quindi immaginate di avere ad esempio una piastra piana, magari metallica, potrebbe essere questo foglio, che viene caricata e supponiamo che questa carica sia distribuita in maniera uniforme su tutto questo piano. Che senso può avere considerare un piano infinito? Un piano infinito naturalmente è una idealizzazione, perché tutti gli strumenti che potremmo immaginare di caricare, che magari potrebbero essere presenti in un circuito elettrico, supponiamo, hanno naturalmente un'estensione finita, quindi ci sono degli strumenti che ho già citato diverse volte, che sono i cosiddetti condensatori, piani, che sono in buona sostanza costituiti da due piastre di questo genere, che possiamo considerare due piani, non sono però naturalmente infiniti. Quindi il motivo per cui facciamo il calcolo nel caso infinito è che questo ci semplifica i calcoli, dobbiamo essere coscienti però che si tratta, dobbiamo essere coscienti che si tratta in una certa misura di un'approssimazione, quindi una cosa non realistica, dobbiamo anche essere consapevoli del fatto però che può essere un'approssimazione abbastanza buona, di quello che succede. In particolare potrà essere un'approssimazione abbastanza buona se noi ci mettiamo in punti piuttosto vicini a questo piano, in modo che, per così dire, visto da qui, in buona sostanza, il piano potrebbe apparire come infinitamente esteso in un certo senso, un po' come se siete, insomma, in mezzo al deserto, magari la distesa intorno a voi può sembrare a tutti gli effetti infinita, quando magari non lo è, solo perché dal vostro punto di vista è molto estesa. Quindi la stessa cosa succede nel nostro caso, quindi se siamo in un punto, per esempio, vicino al centro del piano e piuttosto vicino, probabilmente il calcolo che stiamo per fare dà dei risultati molto simili a quelli che troveremo in realtà. Se siamo invece magari vicino, molto lontano, oppure molto vicino ai bordi, per esempio, di questo dispositivo, allora probabilmente ci dovrebbero essere delle correzioni da fare al nostro calcolo. E in effetti, vicino ai bordi del piano, il campo subisce delle deviazioni rispetto a quello che calcoleremo adesso, che vengono, infatti, non per niente chiamati effetti di bordo. Però, per quello che ci interessa, noi considereremo il piano infinito e ogni volta che tratteremo dei piani, nei nostri problemi, faremo questa approssimazione in cui consideriamo il piano infinitamente esteso o, diciamo, supponiamo che ci siano le condizioni per considerare questa un'approssimazione sufficientemente buona. Quindi, detto questo, per fare questo calcolo, esattamente come abbiamo fatto negli altri due esempi che vi ho citato, useremo due cose. Uno, considerazioni di simmetria del nostro sistema. E due, l'altro strumento che ci viene in aiuto quando c'è una particolare simmetria, che è il teorema di Gauss. Una cosa che siamo già accorti, insomma, ci dà qualche problemino, è la rappresentazione tridimensionale di queste cose. Quindi cercherò di fare, magari, qualche disegno in cui cerco di rappresentare l'oggetto in 3D e poi qualche disegno in cui lo rappresento come un proiezione ortogonale visto di fianco, in modo che spero di chiarire cosa voglio rappresentare, nonostante i miei disegni orribili. Quindi, abbiamo il nostro piano, visto diciamo in prospettiva, quindi visto di fianco, immaginiamo che sia questo piano diventa semplicemente una linea, immaginiamo che questo sia il nostro piano visto di fianco, e immaginiamo che ci sia una certa carica, possiamo farlo con la carica positiva, con la carica negativa semplicemente avremo alla fine del nostro conto un segno negativo della carica, per cui il calcolo, diciamo, è abbastanza... il calcolo è identico, in realtà, d'accordo? Quando abbiamo una distribuzione di carica su una superficie, se vi ricordate, è vaccinato il fatto che può essere utile considerare la densità di carica superficiale. La densità di carica superficiale, se vi ricordate, era la carica presente sulla superficie considerata fratto, appunto, la superficie. E quindi, diciamo, ci dice, in stanza di misura sono coulombo al metro quadro, quindi ci dice, in buona sostanza, ogni metro quadro quanti coulombo di carica sono disposti su quel metro cubo. E in un piano uniformemente carico, vuol dire che la carica è disposta in maniera uniforme, appunto, su tutti i punti della superficie, e quindi che questa quantità è costante. Allora, questa quantità si usa tradizionalmente un'altra lettera greca, che è la sigma minuscola. che è completamente diversa, se vi ricordate, la sigma maiuscola, che è quella che si usa nel simbolo di sommatoria. Quindi è una specie di O con una visiera, in buona sostanza. Quindi questa rappresenta la densità di carica superficiale. E supponiamo di avere il nostro piano uniformemente carico. Allora, un dubbio che uno potrebbe avere è, ma se il piano è infinito, allora io avrei questa carica totale, questa superficie è infinita, quindi dovrei avere una carica infinita, dividere per una superficie infinita, come si fa? Beh, in realtà, anziché definirla così, la densità di carica superficiale, se consideriamo il piano uniformemente carico, significa che qualunque pezzetto di piano, io consideri, se prendo la carica che c'è in quel pezzettino, la divido per la superficie di quel pezzettino, trovo sempre lo stesso valore che è dato da questa densità di carica. Quindi, in questo caso, sì, effettivamente, se nell'idealizzazione considero un piano infinito, ovviamente avrei anche una carica infinita, ma naturalmente, nel contesto poi reale, la carica non è realmente infinita, perché il piano comunque, in qualche modo, sarà limitato. Quindi, la nostra densità di carico vuol dire semplicemente, per esempio, io prendo, se ho la mia piastra, anche se fosse infinita, io ne prendo una certa porzione, per esempio, ne prendo solo un metro quadro di questa piastra, e guardo quanta carica c'è dentro, e facendo carica fra l'altro superficie trovo la densità di carica superficiale, e questo, per essere uniformemente distribuita, devo trovare lo stesso valore qualunque sia la superficietta che io considero, per andare a vedere quanta carica c'è per unità di superficie. Quindi, detto questo, vogliamo provare a determinare il campo elettrico, e per farlo usiamo, come dicevo, considerazione simmetria. Quindi qui c'è la prima cosa che vi chiedo di fare, ovviamente poi farò subito la soluzione, quindi potete anche solo guardare il video e studiarlo, ma in realtà è molto più utile se provate a pensarci un attimo, a fermare il video e pensarci un attimo. Quindi ci mettiamo in un certo punto intorno a questo piano, ok? Da qualche parte qui, per esempio, magari a una certa distanza dal piano, che potrei chiamare D, e prendo il mio punto P, d'accordo? Visto da di fianco, potrebbe essere una cosa del genere. Qui c'è il punto P a una distanza D dal mio piano. La prima cosa che vi chiedo, appunto, considerando la simmetria di questa situazione, quale direzione è verso, e considerando anche la carica positiva che ho scelto, quale direzione è verso potrebbe avere il campo elettrico in P, e perché? E poi, diciamo, come cambierebbe la situazione con la carica negativa. Quindi provate a pensarci un attimo, poi guardate la risposta. Essendo questo un piano, potrei anche cercare di eventualmente metterci degli assi cartesiani, così magari si potrebbe capire un po' di più, x, y, z. Quindi, diciamo, il nostro piano, che dobbiamo immaginare come infinitamente steso, si trova nel piano x, z. Quindi, come può essere il campo elettrico nel punto P? Beh, il campo è infinitamente steso sopra e sotto, e anche a destra e a sinistra, giusto? Quindi, diciamo, non ci sarebbe motivo per avere un campo che è spostato così, per esempio, oppure così. D'accordo? Se vogliamo pensarla così, beh, potremmo avere che un campo del genere potrebbe essere provocato da una carichina che si trova qua, un campo del genere potrebbe essere provocato da una carichina che si trova qua, e... però siccome il campo è finitamente steso, per ogni carica sotto ce n'è una sopra, e visto che la distribuzione è uniforme, i contributi dovrebbero essere uguali. E quindi, le componenti y di questi due campi si annullano e rimane solamente una componente x, che sarà la somma di queste due. E se immaginate di ripetere tutto il discorso per tutti gli altri punti del piano, vi rendete conto che dovrà essere le componenti... o meglio, se usiamo questo grafico, diciamo, questa sarebbe la componente z e questa la componente y, mentre la componente x verrebbe fuori dallo schermo. E quindi, in realtà, sarebbe, diciamo, la componente z sarebbe 0, la componente y l'unica che rimane. Stesso discorso si potrebbe fare lungo l'asse x, quindi, diciamo così, orizzontalmente, quindi non ci sarebbe nessun motivo per avere un campo che viene verso di noi, oppure che va verso l'interno dello schermo. Di conseguenza, il campo non sarà né su né giù, quindi non avrà né componente z e né componente x, nel nostro caso sarà semplicemente perpendicolare al piano. D'accordo? Sarà perpendicolare al piano, quindi sarà l'unica retta che individua appunto la perpendicolare al piano stesso. Se la carica fosse negativa, tutto funzionerebbe in maniera simile, ma al contrario, quindi avremmo un campo elettrico che punta verso il piano, però tutto il resto delle considerazioni è identico. Quindi questa è la prima cosa. La seconda cosa che ci possiamo chiedere, prima ancora di provare a calcolare il modulo, è come cambierà, da cosa potrebbe dipendere questo modulo. In questo modulo, il modulo del campo, nel punto P, diciamo, potrà cambiare quando io cambio il punto P, oppure no. Beh, di primo impatto potremmo dire, quindi provate a pensarci di nuovo un attimo, e poi provate a vedere se quello che dico io coincide con quello che avete detto voi, quindi se cambio il punto P, vi aspettate che il campo cambi oppure no? E quindi dipende naturalmente dalla direzione, quindi se pensiamo di allontanarci o avvicinarci dal piano, quindi muoverci in direzione Y, se volete, potrebbe cambiare effettivamente, perché sappiamo che normalmente quando ci allontaniamo da un corpo carico il campo dovrebbe diminuire, e quando ci avviciniamo dovrebbe aumentare. Quindi diciamo, in direzione Y potrebbe cambiare il campo, vedremo se questo è il caso, ma a priori non possiamo aspettarci che rimanga costante. Viceversa, se io mi sposto, per esempio, in alto e in basso, ma rimanendo sempre alla stessa distanza, quindi supponiamo di andare su un punto P' che stia alla stessa distanza dal piano, quindi visto in prospettiva, sarebbe, diciamo, potrei considerare tutti i punti di un altro piano, questa volta è un piano immaginario, non è un piano carico, che stanno alla stessa distanza dal piano carico da cui di questo cercano di calcolare il campo, e tutti questi punti di questo piano stanno alla stessa distanza dal campo carico, e vedono tutti la stessa cosa, perché questo piano è infinitamente esteso. Quindi, di nuovo, per la simmetria della situazione, tutti questi punti dovrebbero percepire lo stesso campo, in tutti quei punti dovrebbe esserci lo stesso campo. Quindi questo, senz'altro, possiamo aspettarci, che il campo a distanza D dal piano sia uguale in tutti i punti, ma che, eventualmente, possa dipendere da qual è la distanza a cui io mi vado a mettere. Quindi, ultimo step è cercare di usare il teorema di Gauss, come abbiamo fatto per le altre distribuzioni di carica, per calcolare quanto vale il campo. E ci ricordiamo che il teorema di Gauss ci dice, ci dà un'informazione sul flusso del campo attraverso una superficie, e quindi quello che ci dice che è uguale alle cariche interne fratto ε0. Quindi, quello che dobbiamo fare è individuare una superficie attraverso il quale calcolare il campo, che sia facile, che sia facile e quindi che sfrutti la simmetria del nostro problema. D'accordo? Quindi qui l'idea, rifaccio un attimo il disegno, questo che ho già un pochino pasticciato tutto, l'idea potrebbe essere questa. Faccio di nuovo le due versioni, ok, col piano visto di fianco o il piano in prospettiva. Quindi l'idea è andare a prendere delle superfici che stiano sul... comprendano il punto a distanza d dal piano in cui io voglio calcolare il mio campo. Quindi se io prendo una superficie qui che sia parallela al piano dato, io so che in tutti quei punti il campo sarà costante. Quindi potrei prendere una superficietta... in realtà la posso prendere come voglio, potrei prendere un quadrato o potrei prendere un circolino. In realtà vedremo dal calcolo, non importa più di tanto, basta che sia parallela. E ho bisogno poi di una superficie chiusa. Quindi l'idea è, siccome anche dall'altra parte dovrei avere lo stesso tipo di simmetria, potrei prendere un altro punto alla stessa distanza di modo che per la simmetria al campo anche lì dovrà essere lo stesso che ho qua. E infine chiudere il tutto. Quindi quello che vado a prendere... Io qui ho disegnato un cilindretto. Immaginate di prendere questo piano carico e di infiarci dentro un rotolo di carta igienica e quindi lo piantate dentro via una cosa del genere, piantata in foglio, con le due superfici però chiuse del rotolo di carta igienica e le due basi chiuse, diciamo. Quindi questa, la superficie di questo cilindro, è la superficie attraverso la quale voglio andare a calcolare il flusso col teorema di Gauss. Abbiamo già fatto un esercizio simile, non identico, perché nel caso che abbiamo visto noi non c'erano cariche interne, però dovreste essere in grado di calcolare il flusso attraverso una superficie del genere, avendo capito, diciamo, come deve essere il nostro campo elettrico, perché abbiamo detto che il campo elettrico dovrà essere, nell'esempio in cui il piano sia carico positivamente, abbiamo detto che il campo elettrico dovrà essere fatto così, perpendicolare a questa superficie di base del cilindro e su tutti i punti di questa superficie di base sarà costante. Stessa cosa succederà di là. Siccome siamo alla stessa distanza dal piano, la situazione è perfettamente simmetrica dall'altra parte. E poi, naturalmente, abbiamo anche la superficie laterale e sulla superficie laterale abbiamo il campo che è parallelo alla superficie. Quindi, indicate il campo elettrico con E, indicate magari il modulo del campo elettrico su queste due superfici con E, e cercate di calcolare il flusso attraverso questa superficie, sia le superfici di base, sia la superficie laterale, ricordando come bisogna orientare le superfici chiuse. Poi, usando il teorema di Gauss, cercate di esprimere la carica interna al cilindro usando la densità di carica superficiale. Infine, uguagliateli, dovreste trovare che il modulo del campo elettrico, in tutti i punti di queste due superfici, quindi a una certa distanza D dal piano, in realtà è uguale a sigma, cioè la densità di carica, fratto 2 ε0. che è abbastanza stupefacente, nel senso che, vedete, da questo risultato abbiamo trovato che in realtà questa distanza D non compare. Cioè, anche se siete più distanti dal piano, o meno distanti dal piano, in realtà non c'è differenza. Questo è dovuto essenzialmente al fatto che consideriamo questa nostra idealizzazione, cioè un piano infinitamente steso. Non sarebbe vero per un piano di dimensioni infinite, però nella nostra approssimazione vale, e di nuovo vale, se siamo piuttosto vicini a un piano reale, e non troppo distanti, possiamo considerare il campo elettrico, pressoché costante, e quindi indipendente dalla distanza. Un po' come, è una cosa diversa, ma quando considerate la forza peso vicino alla superficie terrestre, per esempio, la considerate costante, anche se sappiamo che, se siamo più precisi, sappiamo che varia in realtà, però in prima approssimazione la possiamo considerare a tutti gli effetti costante. Quindi questo è la stessa cosa, il stesso tipo di approssimazione che faremo qua. Quindi provate a fare questo calcolo, e poi controllate la soluzione che vi faccio adesso. Allora, noi sappiamo che il campo è costante su queste due superfici di base, e quindi la superficie totale del nostro cilindro noi la potremmo separare in tre componenti, diciamo, la superficie laterale, e magari due superfici di base potrei chiamarle S1 e S2, che naturalmente sono uguali. Sappiamo anche, abbiamo detto, che bisogna orientare le superfici con una certa convenzione, quindi questo è magari il nostro vettore superficie S1 e questo è il vettore S2, abbiamo convenuto di considerare sempre uscenti i vettori delle superfici chiuse. e la superficie laterale è cilindrica, quindi non ha un unico vettore normale, e quindi abbiamo, abbiamo già calcolato, in realtà, il campo di un cilindro, scusate, il flusso attraverso un cilindro, abbiamo fatto un disegno simile con tutti gli spilli che escono dalla nostra superficie cilindrica, sono tutti normali in ogni punto alla superficie del cilindro. quindi il flusso totale sarà il flusso attraverso la somma di flussi attraverso le tre superfici e sappiamo che attraverso la superficie laterale il flusso è zero perché in ogni punto che io vado a considerare il campo elettrico è perpendicolare al vettore superficie in quel punto e di conseguenza il flusso la somma di tutti questi flussi infinitesimi è zero perché la somma di tanti zeri dà sempre di zero. Quindi il flusso attraverso la superficie laterale è zero perché e è perpendicolare a s in ogni punto. Scrivo genericamente perpendicolare a s ma s naturalmente non è un singolo vettore ma cambia a seconda del punto considerato. Poi attraverso le due basi naturalmente la situazione vedete è simmetrica quindi sarà uguale in realtà il flusso. Quindi attraverso la superficie S1 per esempio il flusso sarà modulo del campo per modulo del vettore superficie e sono paralleli concordi quindi non c'è il coseno dell'angolo che vale 1 e quindi questo sarebbe il nostro calcolo e lo stesso avrei per la superficie S2 avrei E2 per S2 però essendo la stessa distanza E1 e E2 devono essere uguali e essendo le due superfici uguali perché è un cilindro anche S1 ed S2 sono uguali e quindi posso scrivere che questi due in realtà sono uguali potrei scrivere semplicemente così diciamo sia S1 sia S2 mi danno questo risultato qui ok? dove questo è il campo elettrico a distanza D dal piano e questa qui S è la superficie di base del cilindro ok adesso dobbiamo considerare la seconda parte del teorema cioè il secondo membro abbiamo un'espressione per il flusso e noi sappiamo che il teorema di Gauss mi dice flusso totale uguale somma delle cariche interne fratto ε0 quindi ho calcolato il primo membro devo ricavare un'espressione per il secondo e osserviamo che in questo caso le cariche interne alla superficie chiusa del cilindro sono quelle che appartengono a questo cerchio a questa porzione circolare del nostro piano carico e questa porzione circolare ha la stessa area che ha la base del cilindro e di conseguenza io potrei scrivere che le cariche interne sono σ per la superficie considerata quindi carica per unità di superficie moltiplicato per la superficie che mi interessa e questa s è la stessa che ho qua cioè la base del scusate qui ho indicato anche la superficie totale con s quindi facciamo magari così superficie totale e invece solamente con s indico la superficie di base d'accordo? scriviamo tutto bene ok dovrebbe essere a posto quindi abbiamo finito praticamente perché il flusso totale è abbiamo detto e per il modo del vettore superficie che non è nient'altro che la l'ampiezza di questa superficie che abbiamo considerato e quindi questo è uguale a questo e qui scusate ho dimenticato un fattore 2 perché qui dobbiamo contare entrambi entrambe le superficie di base quindi il flusso totale sarebbe il flusso laterale che è 0 più 2 volte il flusso della superficie di base e questi due ben detto sono la stessa cosa perché il modo del vettore superficie e l'ampiezza superficie sono la stessa cosa e infine portiamo giù il 2 semplicemente e troviamo il risultato che avevamo detto prima quindi questo è il nostro modulo del campo elettrico se vedete anche qui abbiamo una una discontinuità del campo elettrico quando attraversiamo il piano e perché faccio di nuovo il disegno visto laterale se voi siete in tutti i punti a destra diciamo così abbiamo un campo elettrico che punta di là e il cui modulo è sigma su 2 epsilon 0 su 2 epsilon 0 e quando siete di qua anche avete una discontinuità cioè scusate anche avete un campo orizzontale è fatto così ed è uguale anche in tutti i punti tra l'altro il suo modulo è sempre sigma su 2 epsilon 0 ma punta dalla parte opposta ok quindi quando voi passate da qui a là improvvisamente il campo elettrico se voi immaginate di camminare lungo una linea che attraversa il piano e di avere qua una porticina quando passate da una parte all'altra c'è un brusco cambio del campo elettrico perché va da una parte all'altra quindi da questa formula non si vede forse così tanto ma se voi immaginate di voler scrivere la componente orizzontale del campo elettrico quindi nel mio caso l'ho chiamato con y in questo asse e quindi qui la componente lungo questo asse è sigma fratto 2 epsilon 0 e qui è di score dell'asse quindi sarebbe y uguale meno sigma fratto 2 epsilon 0 quindi quando voi passate da una parte all'altra passate da un campo negativo a un campo positivo se volete dal punto di vista del segno della sua componente orizzontale le altre due sono a 0 quindi l'esercizio è finito qua e possiamo solo notare ancora che una cosa molto simile vale se avessimo messo cariche negative per me se avessimo messo cariche negative sigma sarebbe stata negativa quindi se sigma è negativa non è corretto scrivere il modulo come uguale a una cosa negativa quindi dovremmo scrivere modulo uguale a meno sigma in modo che il modulo è comunque positivo nonostante questo vi faccio notare che queste due espressioni che ho scritto per le due componenti sarebbero lo stesso corrette soltanto che se il campo fosse se la carica fosse negativa io avrei questo sigma negativo il che vorrebbe dire che questo vettore sarebbe verso sinistra mentre invece questo vettore sarebbe verso destra che è quello che succede se il campo è generato da un piano carico negativamente quindi finisco qua e ci vediamo la prossima volta mi fate sapere se è tutto chiaro